70-100 anni fa la vastità dei campi coltivati, dei prati falciati, dei boschi pettinati e dei pascoli ordinatamente brucati era immensa. Le nostre valli apparivano come grandiosi grembi accoglienti dalle braccia ampie e dolci. Ho trovato questa descrizione in un post su un social. Il testo poi proseguiva. Ogni lembo di prato, che poco alla volta era stato rubato alla selva meno inaccessibile e cruda, veniva levigato, rasato, poi di nuovo sporcato di letame. I boschi venivano ripuliti dai tronchi e dalle sterpaglie che giungevano alle legnaie ancora verdi, pronti per i focolari. Eppure, sebbene intensamente coltivato, il bosco si riproduceva e restava fertile così come l'erba dei pascoli alti. Cazzo ci risiamo, ho pensato, un altro sognatore che descrive un presunto mondo idilliaco abbandonato nel corso degli anni dalla maggior parte degli abitanti. Immagini evocative che catturano l'attenzione di romantici attratti da paradisi inesistenti. Sto perdendo tempo, avevo pensato, e stavo passando oltre con l'intenzione di cancellare quello che avevo appena letto anche dalla mia memoria per evitare di sprecare inutilmente attività neuronale. Però non ho l'abitudine di limitarmi a leggere un titolo o un paragrafo e poi pretendere di dare giudizi. Così ho proseguito la lettura. Certo era un mondo con lacrime, sofferenze e fatiche grandi, ma questo è più o meno sempre stato. Solo che il senso del sacrificio era connaturato con le nostre genti e inculcato praticamente dal primo giorno di vita, perché senza fatica non c'è incanto e senza fede in una missione non c'è futuro desiderabile. I guasti esistevano ed erano grandi, specie quelli alle schiene, ai denti, agli arti, alla vista e certo anche alle anime. L'invidia, la competizione e la cattiveria erano anche parte integrante di un mondo frugale e per lo più poverissimo. Gli scalvini occupavano il nostro pascolo al culmine dei valichi e noi li bastonavamo. Un fratello prevaricava l'altro e a volte ne restava ucciso. La sorella era condannata ad essere ancella vita o a farsi monaca. Il vicino allargava di una spanna la muracca verso il nostro magengo e noi gliela buttavamo in là di un metro. Eppure esisteva la solidarietà innata e naturale del mondo chiuso, il muto soccorso, come difesa della piccola e insostituibile società. Ma allora l'autore di queste pagine conosce la realtà, ho pensato. Così ho deciso di capire chi fosse. L'ho trovato e l'ho contattato su Facebook. Una breve chat e ho acquistato il suo libro. Più avanti ti spiego dove trovarlo. Eccolo. Il titolo è Alla ricerca del greggio perduto. L'autore è Antonio Stefanini di Corteno Golgi, piccolo paese della Valcamonica, provincia di Brescia. Il libro, che si legge ad un fiato e che ti consiglio, racconta cento episodi di vita contadina negli anni che vanno dal dopoguerra all'inizio del boom economico. Descrizioni molto efficaci che contribuiscono a far conoscere la realtà delle montagne e delle campagne in quegli anni. Chi mi segue sa come la penso perché ne ho parlato ampiamente su vari canali YouTube. A proposito, se non conosci il canale YouTube a Rurale e Digitale ti invito a visitarlo, ad iscriverti e anche ovviamente a mettere un like a questo video per contribuire a far conoscere il libro di cui ti sto parlando. Chi mi segue, dicevo, sa come la penso sulle visioni romantiche dei presunti bei tempi andati. Molti hanno anche conosciuto la mia esperienza diretta con un'azienda agricola in montagna che ho fatto qualche anno fa. Sono molto critico nei confronti di certe descrizioni sdolcinate, usate spesso anche come specchietti per le allodole da vari personaggi e organizzazioni per proprio tornaconto personale. Vivere in montagna o più in generale nelle aree interne italiane è difficile, faticoso e non è assolutamente alla portata di tutti quelli che sognano improbabili ritorni alla natura. Per questo mi ha fatto piacere leggere i racconti di Antonio Stefanini, perché sono scritti in modo onesto, descrivono bene l'atmosfera di quegli anni e chi li vuole leggere con la dovuta attenzione si rende conto della fatica, dei problemi, delle privazioni che dovevano sopportare gli abitanti di quelle zone. Probabilmente vivevano in modo che si potrebbe magari definire più spensierato, apprezzavano le piccole cose, i rapporti umani e godevano pieno di quello che potevano avere. Però quanti sono quelli che oggi riuscirebbero a vivere in quel modo? Nessuno! Inutile fingere di non capirlo o, peggio, illudersi. Non solo, anche chi sogna improbabili fughe dalla realtà, se leggesse con attenzione questi racconti capirebbe che comunque non si può fuggire dalla realtà, nemmeno trasferendosi in una baita isolata a duemila metri, dove comunque la realtà, prima o poi verrà a cercarti. Non sono pessimista, ma, come dico sempre, solo estremamente pragmatico. E questo pragmatismo deriva anche dalle diverse esperienze personali di vita e lavoro che ho fatto nel corso degli anni. E allora dobbiamo tutti rassegnarci a una vita insoddisfacente, magari in una periferia cittadina degradata, facendo un lavoro alienante? Assolutamente no! Le alternative ci sono, e sono tante. Molte le abbiamo anche spiegate sul nostro canale YouTube Rurale Digitale. Bisogna però evitare di farsi incantare dalle sirene della propaganda o dagli estremisti pro o contro qualcosa. Per questo ti consiglio di leggere questo libro. Le zone rurali, come la campagna e la montagna, presentano ovviamente una realtà molto diversa rispetto alla vita in città. Gli abitanti di queste aree devono affrontare difficoltà e sfide che spesso sono sconosciute a chi vive in città. Tuttavia è importante ricordare che la vita nelle zone rurali può offrire molte opportunità e vantaggi che non si possono trovare in città. L'importanza delle zone rurali e della loro preservazione è fondamentale anche per mantenere la diversità culturale e la conservazione della natura. Ma non bisogna idealizzare o demonizzare niente. Bisogna imparare a conoscere la realtà in modo oggettivo e la lettura di questo libro è sicuramente utile. Tra l'altro ho scoperto solo successivamente che Antonio Stefanini ha scritto anche altri libri del genere e li leggerò. Puoi richiedere il libro direttamente all'autore contattandolo via whatsapp al numero 347 46 74 204. Se invece vuoi fare una chiacchierata con noi di Rurale Digitale contattaci attraverso il sito ruraledigitale.it. Non dimenticarti di mettere un like a questo video, visitare il canale YouTube Rurale Digitale, tocca il logo qui a fianco e iscriverti. Se vuoi sapere in dettaglio chi siamo e cosa facciamo, guarda questo video.